Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it, corso di introduzione ad After Effects. Prima di andare a parlare del punto di ancoraggio, come anticipato nello scorso tutorial, bisogna fare una piccola aggiunta alla lezione precedente. Abbiamo parlato nella scorsa lezione delle proprietà trasformazione dei livelli, quindi posizione, rotazione, scala e opacità. Bene, c'è da dire una cosa importante quando parliamo di After Effects, che l'uso della tastiera è di fondamentale importanza. Quindi imparate fin da subito ad utilizzare i tasti per attivare le varie proprietà e per muovervi all'interno di questo software. Oggi vedremo quattro pulsanti, chiamiamoli così, quattro bottoni, quattro tasti, importantissimi da imparare a memoria. E' importantissimo. Senza questi tasti non potete continuare questo corso. Ricordo www.fabioambrosi.it, sito dove troverete l'indice degli argomenti che tratteremo in questo corso. Iscrivetevi a questo canale per non perdere anche i prossimi video tutorial. E cercate la pagina FabioAmbrosi su Facebook e mettete un like per non perdere tutte le notizie che riguardano questi corsi e questi tutorial. Bene, vediamo a noi. Dicevo, tasti da conoscere a memoria. P, R, S e T. Li ripeto, P, R, S e T. Imparateli. Perché? Cosa fanno questi tasti? Vediamolo subito. Io minimizzo i livelli, chiudo le proprietà e seleziono il primo livello, il livello che abbiamo chiamato immagine 1. Bene, ipotizziamo che noi vogliamo visualizzare solo il parametro, la proprietà posizione di questo livello. Bene, nello scorso tutorial abbiamo detto che bisogna espandere il livello, cercare la proprietà trasformazione e cercare la proprietà posizione. Bene, c'è un modo molto più rapido per accedere alla proprietà posizione, ovvero premere il tasto P sulla vostra tastiera. Premere il tasto P sulla vostra tastiera, come ho appena fatto, vi mostrerà soltanto il parametro della posizione. Quando lavorerete con dei livelli con molti effetti e con tantissime proprietà, utilizzare la tastiera per individuare una sola proprietà è molto comodo. Perché qui abbiamo solo due livelli, ma immaginate di avere un progetto con 80 livelli. Quindi è un po' complicato e credetemi in After può capitare di avere un progetto con moltissimi livelli. Bene, per accedere alla posizione premiamo il tasto P. Semplicissimo. Il tasto R ci permette di accedere alla proprietà rotazione. Chiaramente ripremendo il tasto nascondiamo nuovamente la proprietà. Quindi R abbiamo la proprietà rotazione. Tasto S abbiamo la proprietà scala. Tasto T ci permette di accedere alla proprietà opacità. Quindi P per posizione, R per rotazione, S per scala e T per opacità. Ma ipotizziamo di voler lavorare con due parametri contemporaneamente. Per esempio vogliamo lavorare con il parametro posizione e il parametro rotazione. Come fare? Scegliamo la prima proprietà da visualizzare. Quindi dicevamo P per posizione. Tengo premuto il tasto Shift sulla tastiera e premo poi il tasto corrispondente alla seconda proprietà che voglio visualizzare. In questo caso R per rotazione. Ed ecco che ho visualizzato contemporaneamente la proprietà posizione e la proprietà rotazione. Ipotizziamo che io voglio vedere anche la scala per qualunque motivo. Tengo premuto il tasto Shift sulla tastiera, premo S ed ecco che mi viene aggiunta la scala tra le varie proprietà visualizzate. Se io tengo premuto il tasto Shift e ripremo il tasto S, vado a nascondere la proprietà scala. Ancora, tengo premuto il tasto Shift sulla tastiera e premo il tasto R, nascondo la rotazione. Il resto solo con la posizione. Premo semplicemente P e nascondo chiaramente anche la posizione. Quindi il tasto Shift più il tasto corrispondente alla proprietà che voi volete visualizzare vi permette di vedere più proprietà contemporaneamente. Chiaramente almeno una proprietà deve essere già visualizzata, altrimenti il tasto Shift non vi permette di visualizzare assolutamente niente. Ok? Quindi prima visualizzate una qualunque proprietà e poi con il tasto Shift aggiungete le altre proprietà che voi volete visualizzare. Bene, è tutto per questa lezione. Nel prossimo tutorial vedremo il punto di ancoraggio. Importantissimo. Concetto importantissimo. Vi ricordo www.fabioambrosi.it per non perdere anche i prossimi video tutorial. Sul sito ci sono gli articoli di queste lezioni, c'è l'indice con gli argomenti. Iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi tutorial. E cercatemi su Facebook perché la pagina è semplicissima. è Fabio Ambrosi. Mettete un like e teniamoci in contatto anche per le notizie che riguardano il sito e altri tutorial in uscita da qui ai prossimi mesi. Grazie ancora per avermi seguito. Buon proseguimento di serata o di giornata. Ciao!